Bella a tutti ragazzi, io sono Alex, un nuovo admin dello staff di Noi Malati di Footage e oggi sono qua con la player review di Vieto Motum, il giocatore argentino del Villareal che ha ottenuto la sua carta arancione grazie alle sue prestazioni in Europa League direi di partire subito analizzando le sue statistiche tra le migliori troviamo 81 di dribbling, 83 di finalizzazione, 83 di longshot, 85 di potenza tiro un 85 di accelerazione, un 87 di agilità, un 87 di equilibrio, un 85 di salto, un 85 di sprint speed, un attenzato di stamina e direi di partire analizzando le sue statistiche in game allora con questo giocatore ho realizzato 7 partite e 9 gol come vedrete dalle clip e direi di iniziare a parlare partendo dalla velocità velocità che è sicuramente un suo punto a favore troviamo un 85 di valore generale con un 85 di accelerazione e un 85 di sprint speed che ragazzi in gioco si sentono veramente tanto sicuramente è un pro di questo giocatore e in un attacco a 2 dato il suo fisico è veramente eccellente per ripassare direttamente al dribbling anche questo un ottimo valore, 80 di dribbling generale poi troviamo un 81 di dribbling puro, un 87 di agilità, un 87 di equilibrio 4 stelle skill che ragazzi si sentono veramente molto in gioco lo vedrete anche dalle clip, sicuramente questo è un suo punto a favore anche questo, quindi il dribbling sicuramente un suo pro ecco se vi piace skillare sicuramente è un ottimo giocatore ora direi di passare al tiro tiro ragazzi che si presenta con un 82 di valore generale un 83 di long shot, un 85 di potenza tiro allora è un 83 di finalizzazione da dentro l'area questo giocatore non sbaglia mai né di destro né di sinistro quanto ai long shot presenta un 83 ma in gioco non si sentono per niente almeno da fuori l'area, da dentro non si possono definire long shot 85 di potenza tiro che però si sentono molto infatti vedrete anche sui rigori la barretta si caricherà molto velocemente e al contrario dei diri a giro che troviamo con un 71 è veramente un valore pessimo quindi se comprate questo giocatore vi consiglio assolutamente di usare i diri di potenza e non quelli a giro infatti vedrete dalle clip che ne ha sbagliati diversi ed è veramente un suo contro poi 74 di passaggio che per un attaccante è veramente un ottimo valore perché considerando che in un attacco a due affiancato a un altro giocatore lo potrà servire senza problemi e potrà fare delle sponde molto molto buone 74 di valore generale e 78 di passaggio corto e 64 di passaggio lungo si non sono statistiche molto alte ma mi sono trovata abbastanza bene considerando che poi è un attaccante e non un trequartista poi 65 di fisico e questo è sicuramente sicuramente un contro ragazzi perché 65 di fisico per un attaccante veramente ogni volta che si trovava davanti un difensore buono insomma come Skrtel, Hager, Thiago Silva, company e compagnia varia questo giocatore si troverà sempre, sempre per terra 65 di fisico con un 88 di stamina insomma valore sicuramente pessimo dunque ora vi lascio un attimo le clip e poi ci sentiamo non appena arriviamo al al finale qui We could be fighting for what's right We could be falling to pieces Under the bridge of fire burns Somewhere the pages start to turn And somebody whispers I need this I will do anything just to make you see Don't apologize for what's in your dreams Maybe this time we'll be different It's only us It's only us It's only us Now It's only us It's only us dunque eccoci qua come vi avevo già detto in precedenza fra i pro troviamo velocità, dreamly, finalizzazione dentro l'area fra i contro, fisico, longshot e forze e il prezzo voto finale 7,5-8 con questo giocatore mi sono trovato veramente bene se ne avete le disponibilità economiche compratelo spero il video vi sia piaciuto e noi ci sentiamo come sempre alla prossima bella